Buongiorno di nuovo Boldi, abbiamo Boldi con Mirka, il nostro mommy, oggi faremo un nuovo video dove andremo? A Pedavena, abbiamo Gianluigi con la sua nuova, con il suo nuovo Bistrong, Bistrong 1000, 1050, scusatemi, e la voce è Darwin, adesso passeremo a Palluzza a prendere un altro amico, come si chiama? Mauro. Buongiorno amico, oggi un nuovo video, iremo a Pedavena, e abbiamo una nuova moto, Bistrong 1050. Eccoci qua siamo pronti, partenza, vai andiamo, buon viaggio è piano eh. Palluzza a prendere unico. Grazie a tutti. 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 a tutti.